Perché quando arrivi il cielo si apre in un secondo Con il tuo sorriso io mi prendo, mi splendo nel tuo sguardo Ringrazio il cielo per averti accanto Ti prendi in ogni cosa e non mi togli niente Vorrei sapersi quanto sei importante, ti voglio adesso e sempre E' questa la promessa che io faccio a te La splendida, davvero originale, sigla del nostro Antonio Dottavio Un nuovo format su Rete8 Sport, promesse vincenti Calcio di settore giovanile Intervisteremo i tanti dirigenti, allenatori, formatori Dei numerosissimi club direttantistici della nostra regione Nella regione Abruzzo per scoprire insieme Capire insieme come vengono formati e forgiati I tanti giovani ma anche i bambini Che si avvicinano a questa fantastica disciplina Ovvero il calcio Oggi per questo primo numero siamo ospiti della società Delfino Flacco Porto di Pescara Seguiteci Ehi, questa mattina giù al parco Sai si parlava di quando ci si allenava nel fan Quel mondo lo si scopriva giocando Ricordi il tipo che parlava poco Lui già vedeva il suo scopo Dentro lo sguardo bruciava quel fuoco Amava il gioco, amava il suo pallone Viveva per diventare il migliore Lo si chiamava il campione Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso Guardava avanti fisso e diceva stesso Tu sei solo tu con quella porta davanti Un tiro da segnare che aspetta per svelarti Se tu ti fai i sogni per cui tu corri I meriti davvero sono solo illusioni Solo tu e quella porta più in là Sotto i fischi di tutti quando quel tiro non va Particolari sciocchi Se vali si vede dagli occhi Tu corri, tu corri Campo San Marco del Fino Flacco Porto È la prima realtà che abbiamo voluto conoscere Qui a Pescara un po' più da vicino Vogliamo parlarne perché insomma Il settore giovanile è fondamentale a tutti i livelli Soprattutto per la società di natura direttantistica Siamo in compagnia di Cipriani Allenatore degli allievi Intanto ti rivedo con grande piacere Grazie anche io Dopo tanto tempo ci rivediamo Significa che le cose vanno bene Vanno molto bene Parlando del Fino Flacco Porto Una grande famiglia non c'è dubbio Sì Principalmente questa non è una società Ma è una grande famiglia come hai detto Ci divertiamo a fare calcio sano Con i ragazzi Cerchiamo di farli crescere Ma soprattutto di toglierli dalla strada Perché la società in cui viviamo È una società difficile Presupposto fondamentale Prima la maturazione umana Poi quella sportiva se vogliamo Fondamentale Se non c'è maturazione umana Non c'è quella sportiva Quindi prima l'uomo e poi l'atleta Il nostro format si chiama Si intitola Promesse vincenti È chiaro che i bambini Quando cominciano a giocare al calcio Hanno il mito Magari il grande giocatore Il grande campione E vorrebbero arrivare a quei livelli Tu da allenatore e da formatore Che cosa ti senti di dire Soprattutto a questi ragazzi? Ma la prima cosa che noi facciamo E cerchiamo di essere uniformi in questo Tutti gli allenatori, i dirigenti E di togliere purtroppo I miti negativi Perché loro principalmente Sono attirati dal Tra virgolette testa calda Da quello che si mette in evidenza Deve essere imitato Perché poi c'ha la macchina C'ha la velina e quant'altro Quindi la prima attenzione È cercare di sfatare Quegli esempi Forse è la cosa più difficile? Difficilissimo È difficilissimo perché poi Oggi chi va bene a scuola È uno sfigato Invece chi C'ha la macchina E fa un frontale O parcheggia Sul marciapiede Gli treno la macchina È un fenomeno Perché Quindi Prima attenzione su quello Scuola Famiglia Noi qui abbiamo fatto anche Con ripetizioni Dopo gli allenamenti Abbiamo un'aula Le cose sono un po' cambiate Nettamente cambiate Rispetto a prima Io e te lo possiamo dire Che abbiamo qualche anno Sono cambiate Perché noi se avevamo Cinque minuti Andavamo al campo Se poi avevamo Un pallone E qualche amico Giocavamo in mezzo alla strada Ora io vedo spesso Ragazzi che si ritrovano Sotto i cortili Delle case Invece di giocare Stanno tutti ammucchiati Con un telefono In un tablet A vedere Che cosa è successo All'altra parte del mondo A giocare A scaricare I giochi Capisco le società Pressionistiche Perché ci sono stato La difficoltà A reperire Se ci fate caso La maggior parte Dei talenti attuali Anche Ad alti livelli Vengono da paesi poveri E questo non è un caso Se ci facciamo Una piccola riflessione Non è un caso Parlando invece Proprio Dell'aspetto tecnico Insomma Della tua squadra Che guidi Gli allievi Abbiamo fatto già la prima E come è sempre Un campionato Come dicono Gli allenatori Difficile Ma difficile Per la crescita individuale Non per la classifica Perché poi la classifica La si guarda E non si guarda La classifica A mio parere Serve solo Per non far deprimere Il gruppo La crescita individuale Nasce attraverso Un gruppo Se il gruppo Si deprime Perché Perdi le partite Noi non ci guardiamo Ma loro ci guardano E devi stare attento Perché poi La crescita individuale Rallenta Quindi diciamo Che ci vuole Il giusto equilibrio Tra crescita individuale E il risultato Dal punto di vista tecnico Si cerca sempre Di curare L'aspetto tecnico Nel globale Rispetto ai tempi nostri Si faceva L'aspetto tecnico Al muro La forca Oggi le cose sono cambiate Si cerca sempre di più Di fare Sempre l'aspetto tecnico Ma nel globale Quindi Far percepire Il gesto Nel movimento Anche degli altri Tu hai anche Allenato giocatori Che poi sono diventati Giocatori importanti Erano delle promesse Che sono diventati Grandi calciatori Per esempio Ricordo di Akite Tanto per Akite Roberto Inglese Del Pinto Del Benevento Matteo Ciofani Daniel non ho avuto la fortuna Matteo sì Matteo Ciofani Berardocco Lulli Capuano Martella Insomma Ne ho visti E' una grande soddisfazione E' una gratificazione Sì Una grande soddisfazione Alcuni mi chiamano Non solo negli auguri Di Natale e Pasqua Che sono quelli di rito Ci sentiamo per telefono E' una gratificazione Umana Dal punto di vista umano E' veramente bello Vedere chi Oggi ha fatto strada Ricordarsi di chi E' rimasto a fare Attività sportiva Ludica Grazie davvero Per aver accettato Il nostro invito E' in bocca al lupo Per tutto Crepi Grazie a voi Ed è lodevole Che un emittente Come il Reteotto Si occupi di queste realtà Perché Secondo me Il settore giovanile Non solo per i dilettanti Ma soprattutto Per i professionisti E' un ancora di salvezza Beh qui abbiamo Lo posso dire Gianni La storia Eh Tu sei la storia Insieme con tante altre persone Molto Pescara Più di dieci anni Se non vado errato Dici anni Pescara E nove anni Renato Curi Nove anni Renato Quindi vent'anni Di grandi soddisfazioni Questo è il quinto anno Quinto anno Qui in questa realtà Che sta crescendo A vista d'occhio Sta crescendo a vista d'occhio Abbiamo un progetto Da portare avanti E stiamo tutti quanti Collaborando Affinché Possa dare i suoi frutti A fortuna di essere stato Uno staff di Dimascio E quindi sicuramente È stato fondamentale Parliamo di Renato Curi Famiglia Ortolano Diamo a Cesare Quel che è di Cesare Di Cesare Questa è storia È storia Infatti No Poi mi dispiace Sentire tante storie Non stiamo a fare polemiche Vabbè Ho fatto la storia Del calcio italiano Hanno giocato in Serie A In Serie B In Serie C Tu prima mi hai fatto Vedere una lista Sì Io non ricordavo Così tanti nomi Devo essere sincero Ne ricordavo qualcuno Ma ce ne sono Almeno una cinquantina Sì Ma guarda È una cosa incredibile Quindi se mi metto a dirli Poi rimane Però voglio dire Come sono arrivato Ricordiamo Giulio Falcone Che in precedenza Erano partiti anche Di Cintio Da Cresta Da Versa Che sta facendo L'allenatore a Parma Pemellin Ruscitti Ernesto Terra Memmo Assetta Che è andato insieme a Memmo Fayeta Fayeta Che è stato Secondo me Il talento più grande Che ha avuto L'annato Curi Donofio Che a quei tempi Era un fenomeno Che è andato insieme a Falcone Andò insieme a Gianluca A Torino Poi lui ha avuto Più fortuna Diciamo Tra virgolette E il figlio di Gianluca Travente sta con noi E in più Abbiamo anche il nonno Un certo Francesco Giuseppetti Che abbiamo messo Il nostro quadro Dirigenziale e tecnico Guru della scuola calcio Abruzzese Assolutamente Io ricordo Ero giovanissimo Ho fatto qualche settimana Renato Curi Stiamo parlando di 35-36 anni fa E mi deliziavo A vederlo calciare Aveva un calcio fantastico Senza polpacci Stava giustamente Poverino Ed era bravissimo Poi è come brava persona Insomma E c'erano tantissimi Tecnici Nel Renato Curi Da Manzueti Cialini E tanti altri Che collaboravano Panei Che stavano Stav con me E Cetteo È stato tantissimi anni Giusto per ripristinare Un minimo di verità storica Perché Giustamente Non stiamo inventando nulla Questi sono dati oggetti Mi dispiacerebbe Molte volte mi dispiace Leggere queste cose E chi ha lavorato Su questi ragazzi Molte volte viene accantonato E chi non sa la storia Non bisogna acculturarli Siamo stati al Pescara Con Dimash 11 anni E anche lì Grazie a Dio Possiamo dire Che ci sono stati tantissimi ragazzi Forse c'erano le mani fatate Abbiamo Croce Che continua a giocare Abbiamo i fratelli Ciofani Abbiamo Mammarella Mammarella Roberto Inglese Che sta giocando Verratti Ivan Artipoli Dalla Sampdoria Dalla Sampdoria A proposito Prima di parlare Di questa splendida realtà Ecco ci troviamo Al campo San Marco Ricordo Stagione 2008 Un amico Comune Giorgio Repetto Mi disse Perché non ti vai a fare Un giro con la telecamera Esatto Vai con un tuo operatore Metti all'ordine di servizio La partita del Pescara Berretti Se non vado errato Allenata da Norscia Era allenata Da Norscia Da Norscia Finalissima Campionato Berretti Partita di ritorno Pescara Pro Sesto Vedrai un talento E se ne parlerà Questo talento Era Marco Verratti Aveva appena 15 anni Lo stravedere in campo E c'erano 5 anni In differenza tra Marco Verratti E tutti gli altri I altri della Pro Sesto Sì Noi avevamo perso La partita della data 4 a 0 In sola partita Dopo 5 minuti Eravamo 1 a 0 sotto Dopodiché Marco ha messo Messo le giostre Finita 4 a 1 per noi Loro impauriti A fine parte ci dissero Ma dove l'avete preso Questo Insomma potremmo parlare E fare una trasmissione Su quello che è stato fatto In Abruzzo Dall'Arenato Curie E non solo Ecco il Delfino Flacco Porto Qui diciamo che ci chiamò Luca Febo Sì Perché voleva ricostruire un po' E quindi Ha chiamato me Ha chiamato Guglielmo Bonati Che è l'allenatore Della prima squadra E lui Ha giocato anche lui Con l'Arenato Curie Ha giocato con la prima Verità del Pescara E ho cercato di portare Tutte persone che Avevano quella cultura E quindi ho portato Cipriani Luca Febo Giacera Il preparatore portieri Cirulli Nunzio Che è stato con noi L'Arenato Curie Il magazziniere Carlo Di Nicola Antonio Che è fondamentale Se non risvolti i calzettoni Ciofani mi dice Mi ha detto l'altro giorno Sto facendo un libro Dove metterò Carlo Di Nicola Antonio Perché io rigiro Ancora i calzettoni E tutti mi dicono Ma perché li rigiro Perché mi hanno acculturato In questa maniera Diciamo che gli obiettivi Della nostra scuola calcio Li ricerchiamo a livello sociale Motorio e psicologico Sociale perché noi abbiamo Un compito fondamentale Insieme alla famiglia Alla scuola Alla chiesa Ai compagni Di creare Il futuro uomo Il senso del confronto Che è fondamentale Saper accettare la sconfitta Non esaltarsi Nel caso della vittoria E quindi sono tutte fondamentali Perché Poi a livello motorio Giustamente una volta Gli schemi motori di base Corro, saltare A ferrare, arrampicarsi Ti facevano tutti i giorni In mezzo alla strada Si saliva sugli alberi Adesso questi ragazzi Non vanno tutto ciò A livello psicologico Cerchiamo di lavorare Sul ragazzo Perché deve diventare Indipendente Nel senso che il bambino Deve imparare a fare la doccia Da solo Si deve cambiare Deve prendere La responsabilità E telefonare al mister Mister oggi non posso venire Perché non sto bene Perché mamma mi ha punito Che non ho fatto i compiti Perché molte volte E la mamma che telefona E non va bene I bambini devono iniziare Perché poi prendono fiducia In loro stessi Poi noi dallo scorso anno Abbiamo inserito Il terzo allenamento Anche a livello Pulcini E primi calci Terzo allenamento Che l'obiettivo Aumentare La propria autonomia Vengono al campo Mezz'ora stanno col mister Poi quell'ora Loro prendono le casacche Il pallone Fanno le squadre Il mister li guarda Ma senza proferire parola Perché devono fare tutto loro E secondo me Quella è una crescita importante Perché c'è il bambino Che molte volte è timido Invece quando si diventa libero Tutte le nostre squadre Sono attrezzate con Allenatore Allenatore in seconda Preparatore atletico Più occhi Secondo me Migliorano sicuramente La prestazione E la crescita E la crescita del ragazzo Questo capacità di adattamento Oggi come oggi Non c'è Perché sono abituati Adesso col campo in sintetico Quando vanno su un campo in erba Dove trovano il ciuffetto Eh ma c'era il ciuffetto Ma tu devi capire Che c'è il ciuffetto Devi capire che c'è il venda Devi capire che c'è l'avversario Giocare a Rampigna Col campo pieno di fango No noi facciamo allenamento con la Gugli Facevamo allenamento al parco Allo spartitraffico Fra l'antistadio E il campo sul cemento E poi dobbiamo anche citare Non l'abbiamo ancora fatto Patron Paluzzi Che fa insomma grandi sacrifici Dipende tutto dal fatto Che abbiamo Luciano Che è il nostro presidente Che più che un presidente È un factotum Luciano fa tutto E poi abbiamo il Patron A piena fiducia in noi E quindi ci permette di fare Tutto ciò che stiamo facendo Diciamo che gli è tornata la voglia Di fare calcio a certi livelli C'è collaborazione con le altre realtà Come vi muovete sotto questo profilo? Noi abbiamo adesso fatto un accordo Diciamo con la D'Annunzio Con Giovanni Mincarini Che è un altro di quelli che ha creato L'Arena Tuguri Allenatore sanguigno Sanguigno che li tempra i ragazzi E poi abbiamo accordi ecco col Pescara Quest'anno abbiamo dato Tre ragazzi al Pescara Un 2005 Un 2003 E un 2004 Cioè la mia soddisfazione Quando i mondiali C'erano odd e grosso Io stavo in divano E piangevo Dicevo Ti rendi che quando io erano questi ragazzi Mi è emozionato ancora adesso Un altro Mi sono dimenticato Importante Marco Stella Stella ha fatto parte Sia del gruppo Renato Curi Sia del gruppo Pescara Gianni è stato davvero un piacere Ci ha un po' illustrato Questa splendida realtà Ma noi continuiamo il nostro viaggio Qui al campo San Marco Perché veramente il Delfino merita Tutto ciò Perché veramente stanno facendo cose Stiamo facendo cose importanti Con l'annunzio Cirulli Parliamo di questa novità Una rarità nel mondo dilettantistico La scuola Portieri Sì La scuola Portieri è una novità In quanto Penso sia l'unica in Abruzzo Ma credo anche in Italia Una delle poche Che dura l'intera stagione Siamo partiti due anni fa Diciamo il tutto è nato Con l'incontro Mio Che ho sempre militato E allenato nei dilettanti Con Emilio Tuccella Che invece ha svolto Una carriera Sia da professionista Come giocatore Che come allenatore Abbiamo trovato in comune La passione per il calcio E per il ruolo del portiere La risposta è più che confortante Insomma Voi sei dagli inizi Sotto questo profilo Guardi Noi l'anno scorso Siamo partiti con 13 iscritti Dopo un mese eravamo già 21 Abbiamo chiuso la stagione A circa 40 unità Quest'anno siamo già 41 iscritti Diciamo che in due anni Abbiamo portato in questo campo Circa 60 portieri Quindi i numeri sono già più che soddisfacenti Anzi direi che sono assolutamente lusinghieri Dal punto di vista tecnico Il materiale umano? Allora il materiale umano Allora noi quest'anno Un nostro 2005 È stato prelevato dalla Pescara Calcio Senso di gratificazione Alla grosso lavoro che facciamo Quest'anno abbiamo una tendenza All'iscrizione di ragazzi molto piccoli Abbiamo infatti Un gruppo predominante Dal 2004 al 2007 Ma abbiamo anche 4-2010 Entriamo nello specifico Cirulli Come vi organizzate il lavoro quotidiano? Allora facciamo una conversazione Su un gruppo Whatsapp Abbiamo un gruppo Whatsapp Dove abbiamo le adesioni Dividiamo i ragazzi in vari gruppi Tendenzialmente per anno di nascita Ma anche per capacità O addirittura In base al lavoro che vogliamo fare In quell'allenamento Addirittura possiamo far lavorare I ragazzi più piccoli Ad esempio con i più grandi Ti porto ad esempio l'esempio di Falso Il portiere della nostra prima squadra Che ha un'esperienza e un curriculum Di tutto riguardo Ad esempio noi alle volte Facciamo lavorare il 2004-2005 con lui Perché diciamo nell'età giovanile Il senso di imitazione Di emulazione è molto alto Siamo molto attenti Nella gestione della parte motoria Soprattutto dei più piccoli Nello staff infatti abbiamo un professore Isef Che cura nella prima parte D'allenamento tendenzialmente Soprattutto nelle fasce più piccole Tutta la parte motoria Di rapidità, di equilibrio Di reattività Anche di forza Quando si dice che il portiere È un uomo solo È vero? È un uomo solo Che però ricopre due ruoli Soprattutto nel calcio moderno Perché è l'unico che può usare le mani Quindi già questo dimostra La particolare del ruolo Ma è portiere Ma allo stesso tempo giocatore È il primo che fa la fase difensiva Ed è il primo che fa la fase offensiva Guarda leggevo un libro ultimamente Sotto questo profilo Zeman sta mille anni avanti Come sempre Io sono zemaniano da sempre Quindi per me Sta mille anni avanti a tutti In un campionato primavera Il portiere dell'Entella Leggevo questo libro Generalmente tocca il pallone 17 volte con i piedi E tre con le mani Toccare con i piedi Dico cioè In fase di gioco Non ne rinvida Palla in mano Quindi c'è la dimostrazione Che l'aspetto podalico Quasi quasi è diventato più importante E quindi il portiere racchiude Il portiere più un giocatore di movimento Invece qual è l'aspetto più importante Da curare nella crescita del portiere Secondo te La parte motoria per me rimane importante Sino anche all'età degli allievi I più piccoli dobbiamo aiutarli A saper prendere la palla E a saper cadere Dal punto di vista dei più grandi Io curo molto la gestione dello spazio Diciamo che a Pescara abbiamo un grande esempio Con Pigliacelli Pigliacelli alle volte diciamo È totalmente fuori dalla porta Però io dello verità A me piace questa cosa Quindi diciamo Il coraggio La posizione Il saper rischiare Quanto conta Secondo te Dall'alto della tua esperienza L'altezza Per far sì che un portiere Diventi Un grande portiere Obiettivamente Avere qualche centimetro in più Aiuta Aiuta Però insomma Diciamo che ci sono anche portieri Che piccolini Sfruttano la velocità Ad esempio Altre caratteristiche E' tipo Pigliacelli Tecnicamente è fortissimo Con i piedi Ha coraggio Ha voglia di rischiare Io Per me questo è un portiere Che va a colmare Il gap dei centimetri Con questo coraggio Questa voglia di rischiare Però È indiscusso Che il fisico Fa la differenza Ringraziamo Cirulli Che è stato molto Esaustivo Devo dire Chiaro Ci ha fatto capire Anche un po' Le tecniche D'allenamento E soprattutto Ha spiegato Che cos'è La scuola portiere Qui al Delfino Flacco Porto Volevo solamente ricordare Che noi La stagione È già partita La concludiamo Il 30 maggio Attualmente Facciamo due allenamenti A settimana Il mercoledì E il venerdì Dalle 18 Alle 19.30 Chiunque Volesse provare Può Venire qui al campo O contattarci E Può fare una settimana Di prova A scuola portieri Luca Febbo Allenatore Della Juniores Trovare qui In questa splendida realtà Qualcuno che non sia Che non venga Dall'allenato Curi È una rarità Siete più o meno tutti Passati per quella famiglia Questo anche perché Il legame che si è stretto Da quando eravamo ragazzi È rimasto tuttora Quindi le bellissime Esperienze Le bellissime emozioni Che abbiamo vissuto Da compagni in squadra O da allenatori Perché Gianni Ci allenava Adesso ce li troviamo Come collaboratore Parliamo di chiacchiaretta Per noi è una cosa A parte emozionante Perché comunque abbiamo Visto tante cose insieme E poi ci dà stimolo E cerchiamo di apprendere Quando più possibile Da Gianni Perché è una fonte Di esperienza Inesauribile Facciamo un po' di amarcordo Sei giovane Perché devi ancora Compere 40 anni Vabbè Beato te Rispetto a me Sei sicuramente giovane Ce ne portiamo 11 Non li dimostro Grazie Ti ringrazio E tu hai giocato Insomma anche con Fabio Grosso Sì erano degli anni Bellissimi Ricordo Con piacere Fabio Lui Luisi Davide Riuscita Ragazzi Che poi Già da quei tempi Dimostravano il loro valore Quindi tutto quello Che poi hanno fatto In carriera È strameritato Tu da calciatore Eri un propulsore Di fascia Adesso alleni La Juniores Qui in questa Splendida realtà Insomma Li fai correre Ragazzi Ma oddio Adesso i ragazzi Hanno meno voglia Di correre Rispetto a qualche anno fa Quindi Io non ero molto Dato ai clienti Quindi cercavo Di mettere A frutto Quelle che erano Le mie doti atletiche Adesso i ragazzi Fanno fatica Insomma A fare dei sacrifici Dal punto di vista tech Quindi bisogna cercare Di farli studiare Il modio E farli correre Diversa Come si faceva Qualche anno fa Quindi cerchiamo Di lavorare un po' più Col pallone E quindi Illudendoli Che giocano col pallone Ma comunque Corrono lo stesso Quindi dandogli l'illusione Secondo te Perché c'è Meno propensione Al sacrificio Se vogliamo Questo penso Che è dovuto Un pochettino Alla società Che è cambiata Adesso i ragazzi Sono molto più comodi È molto più facile Giocare alla playstation Molto più facile La tecnologia Che vedi a campo I ragazzi Oggi fanno più fatica Sembri meno Esisteva Chi a 15 anni Andava in discoteca Fino alle 4 di notte Adesso le cose Purtroppo sono cambiate Che cosa si insegna Ad un ragazzo Della Juniors Soprattutto dal punto di vista Però tecnico Allora Questo credo che La Juniors È un anno difficilissimo Perché è un'età In cui i ragazzi C'è una percentuale Di ragazzi Che abbandonano il calcio Nella Juniors Particolare come è nato Quindi si cerca Soprattutto di Continuare a lavorare Cercando di stimolare Dal punto di vista Lamentare Nel fargli Continuare la passione Che hanno Da piccoli E poi da noi Abbiamo la collaborazione Con la prima squadra Con la quale Collaboriamo attivamente Quindi i ragazzi Sono proiettati Continuamente Tra Juniors Questa è la prima squadra E vengono impegnati Su più fronte Quindi cerchiamo Di dargli delle prospettive Diverse In modo tale Che sono sempre stimolate Stiamo parlando Di quale fascia d'età? Beh sono ragazzi Che vanno Quest'anno Dal 2000 All'98 Quindi per le ragazze 17 Ai 19 anni Quindi puoi capire Il massimo divertimento Del sabato sera Discoteche Ragazzi Quindi tenerli 5-6 volte Al campo A settimana Diventa difficile Quanto conta Per un allenatore Settore giovanile E il risultato Probabilmente il risultato È relativo Per i tanti discorsi Che stiamo facendo Beh sì Conta dal punto di vista Morale soprattutto Perché i ragazzi Poi vengono al campo E hanno Uno stimolo diverso Per quanto riguarda noi Cerchiamo comunque Essendo una categoria D'elite Nostri Mantiene una categoria Perché non nascondiamo Che è importante Visto che Il regolamento Ci impone Che ci sono tre retrocessioni Però non è Sicuramente Il primo aspetto principale Non correte questo rischio Però Guarda me lo auguro Noi ancora iniziamo Iniziamo lunedì prossimo Iniziamo nel campionato Con una trasferta Già abbastanza difficile A Casalbordino Quindi Però siamo Un mese che lavoriamo Con la prima squadra Penso che siamo pronti Per iniziare a affrontare Questo campionato In bocca al lupo di cuore Allora Grazie a voi Siamo in compagnia Siamo in compagnia Di un giovanissimo allenatore Del Delfino Flaccoporto Giacomo Pietropaolo Tra l'altro anche vice allenatore Della prima squadra Ma tu guidi Soprattutto i giovanissimi regionali Però sei una sorta di Tuttologo Ci dicono Allora Da che cosa vogliamo cominciare Partiamo dai giovanissimi Scegli tu la materia Perché tanto Partiamo dai giovanissimi Mi metteresti in difficoltà No 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 Tuttologo deriva un po' dal fatto Che Che mi occupo di tante cose All'interno della società Per piacere E anche perché Ho un po' più di tempo a disposizione Rispetto alle altre persone Quindi lo faccio Con estrema felicità Ecco giovanissimi regioni Ricordiamo che la fascia d'età 2003-2004 14-15 anni Esatto In uscita scolasticamente In uscita dalla terza media All'ingresso alle superiori Diciamo che è un'età Molto delicata Sì Moltissimo diciamo Perché ci sono poi Anche in un ambiente Come il nostro Ci sono E' talmente terrogeneo Che abbiamo a che fare Con ragazzi Di estrazione sociale Completamente differente E un po' lo stimolo Sta anche in questo Perché ci fa crescere Anche sotto questo punto di vista Ecco A livello tecnico Mi dici Che cosa Si spiega Soprattutto E si insegna A un ragazzino Di 14-15 anni Allora Diciamo che si valuta Per primo La base con cui Arriva dalla scuola calcio Che da noi È già un livello Medio alto Dopodiché Si parte Soprattutto A lavorare sul singolo Per arrivare Nell'arco Dei 7-8 mesi A lavorare Un po' più Sul collettivo E trasferire il gruppo Agli allievi Dove si lavora Quasi esclusivamente In collettivo Voglio fare un po' Il cattivello Si dice Che i giovani Formatori di oggi Privileggino Più la tattica Alla tecnica E così o no? Capita In alcune situazioni Però non ne farei Di tutto Nervo un fascio Nel senso Negli ultimi anni Si è notata Abbastanza Una cosa Controttendente Rispetto agli anni passati Ci sono molti più Educatori Barra allenatori Giovani Che lavorano Più sui concetti Individuali Che collettivi E anche nel campionato Che affrontiamo noi Ci sono tanti ragazzi Della mia età Che allenano E anche molto bene Giacomo Pietropaolo Ha cominciato a fare allenatore Da quanti anni? Perché sei giovanissimo Tu hai detto Ho 32 anni Te ne davo 24-25 massimo Ho iniziato Ormai sono quasi 10 anni 10 anni? Sono partito dalla scuola Calcio con il professor Chiacchiaretta Al Montesivano Colle Poi ho avuto la fortuna Di lavorare 4 anni Con la Pescara Calcio Nella scuola Calcio E poi sono rientrato Alla base Diciamo Perché ci Quindi vuoi arrivare Però Dove dobbiamo arrivare? No non lo so Vieni tu No no Arrivo dove mi è possibile Gioco così dai Intanto ti diretti A fare il tuttologo 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 Perché così Più che altro Tuttologo Perché tolgo Tolgo le problematiche Agli altri Davvero molto simpatico Ti ringrazio Ti ringrazio Grazie ancora In bocca a tutti Crepi Davvero un grande piacere Rivedo Massimo Briga Perché lo rivedo Con estremo piacere Perché lo dovete sapere Abbiamo giocato insieme Calcio a 5 I pasetti Abbiamo fatto Delle belle stagioni Ci siamo divertiti Abbiamo fatto anche Tanti gol Sì Vittorie poche Diciamo a livello globale Era un bel calcio Un bel calcio Un altro calcio? Molto Molto diverso Da quello che è adesso E' cambiata la generazione Un po' i ragazzi Non sono più disposti Ad un grande sacrificio Faccio questa attività Da ormai quasi 15 anni E devo dire effettivamente Che tante cose Sono cambiate Nel corso degli anni Perché poi i ragazzi Sono cambiati anch'essi Sono cambiate le abitudini Sono cambiate le sensazioni Che loro mettono in mezzo al campo E di conseguenza Qualche volta Bisogna lavorare più Sugli stimoli Che sulle fasi tecniche O tattiche Quindi il compito Di un giovane formatore Come te È ancora più improbo Se vogliamo Rispetto ad un tempo Sì Probabilmente Prima Premettendo che comunque C'è un buon grado Di attenzione Questo sicuramente Si parte sempre Da una solida base Certo prima Forse c'era un attimino Più di fame Tecnicamente Massimo Briga Io ricordo Aveva un gran bel piedino Mancino Quindi il tuo obiettivo È quello di affinare Soprattutto la tecnica Dei ragazzini Sì Curiamo tantissimo Il profilo tecnico Di tecnica individuale Di tecnica collettiva Quindi cerchiamo Di dare lo sviluppo Della situazione tecnica Anche in una fase di gioco Predisposta Come può essere Un lavoro Su una sovrapposizione Su uno scarico Su una palla dietro Palla avanti Insomma Tutte simulazioni di gioco Che poi si ripropongono in partita E che aiutano a crescere il ragazzo Sotto il profilo Della propria tecnica Individuale Sicuramente Sì A me piace molto Vedere la squadra Giocare a pallone Questo sicuramente Perché credo poi Che fino al settore esordiente Quello che ho allenato Fino all'anno scorso Per tantissimi anni Si debba dare molto più spazio Alla crescita collettiva Ma individuale Del ragazzo A discapito del risultato Assolutamente Sono in perfetta consonanza Con te Massimo Giovanissimi provinciali Quali sono le aspettative? Le aspettative È preparare un gruppo Che il prossimo anno Affronti il campionato regionale E che sia pronto A entrare sicuramente E speriamo Nell'elite E il mio obiettivo È uno solo Non dobbiamo vincere il campionato Non dobbiamo Vincere le partite per forza Dobbiamo costruire un gruppo Che il prossimo anno Sia competitivo A livello mentale Fisico Tecnico E abbia la voglia Di affrontare i regionali Che sono Un ostacolo Tosto Ma ogni tanto Te la fai qualche partitella Oppure hai deciso Proprio di appendere Gli scarpini al chiodo No Ogni tanto sì Ogni tanto sì Stampone Carletto Perfetti Lorenzo Con loro vado a mangiare fuori Con loro si va a mangiare fuori Basta con il calcio Con loro sì Con gli altri Se no con loro mi arrabbio Non possiamo non concludere Con il presidente Delfino Flaccoporto Luciano Zangirolami Che è un'istituzione Nel calcio Pescarese Nel calcio cittadino Quante battaglie Luciano Eh Battaglie tante 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 Prima sentivo Che nominavi Rampigna Ho delle fotografie Quando giocavo Con il Pescara Porta Nuova Dei fratelli Della famiglia Sarno Gente sul ponte Appoggiato Perché non ci stavano A vedere la partita La tribuna Era piena Roba di 3-4 mila persone Aveva una partita Di promozione Di eccellenza Quindi Battaglie tante In quei campi In quei campi Con tanto di fango Continuato Nei dilettanti Sono stato bene Qua a casa Senza prendere mai Un centesimo Sempre per pura passione Questo va detto Sottolineato E ribadito Ormai da 5 anni In realtà No? Se non vado Sì Qua è 5 anni Che ci sto Ecco Negli anni avete messo Su un gioiello Sì Tutte le decisioni Li prendiamo assieme Non è che ne prende uno Sono tutte condivise Tutte condivise E ringraziamento generale Alla famiglia Paluzzi Il Delfino Che ci supportano Ci sopportano Fanno tutto quello Che Non che dice Ci mette questa famiglia Passione Faccia e soprattutto soldi Perché poi alla fine Stiamo parlando Di un giocattolo Esatto Che costa Noi abbiamo Della promozione Juniores Due allievi Tre giovanissimi Tre esordienti Quanti pulcini E l'attività di base E l'attività di base Unità Totale Sui 200 Per adesso 200 e 250 Niente male No È anche la fortuna Che abbiamo avuto Di avere in gestione Il campo Qui a San Marco Titolo maggiore Diciamo Che è quello Della beneficenza Che il patron Paluzzi In Africa Ha costruito Una scuola Per i bambini africani Quindi Oltre qua Abbiamo La sala C'è la camera Ail A livello Anche di adesso Di questi ragazzi I profughi Certo Li mette al lavoro Da lui Qualcuno viene A giocare qua Quindi Abbiamo Il punteggio Adatto Per poter A disposizione Poi tutti i campionati Il campionato maggiore Perché siamo Oggi è venuta la Fata In promozione Ma siamo la seconda squadra Di Pescara A proposito Si vince il campionato Quest'anno No Il campionato Lo vince il campo Lo vince Però ti dico Che l'anno scorso Noi siamo stati La squadra Premiata Della federazione La squadra Più giovane La media 23 anni 23 anni E 4 mesi Siamo con Responsabile Della comunicazione Il collega Cristian Barisani Intanto ti chiediamo Cristian Come è nata Questa opportunità Mi pare di capire Così conoscendola Per un attimo Che ti sei Introdotto In questa famiglia Da subito Con grande spontaneità Sicuramente ringrazio Il mister Bonati Che mi ha introdotto E soprattutto Il padrone Quinto Paluzzi Che è una Persona eccezionale Della grandissima Umanità Una persona Che io già considero Un secondo padre Una società Tra l'altro Molto organizzata Nella quale Davvero vi volete Tutti bene Ho visto Ci sono dei valori Dei principi C'è un'etica Che non è presente Dappertutto E per questo Già Se non è molto Che sono qui Mi sono innamorato Di questi colori E spero Di fare ancora Molto per loro Tutto quello Che hai visto Questa meraviglia È frutto Di questo spirito Si può parlare Di spirito Del delfino Io cerco Di incarnarlo Come meglio posso Lo stai facendo Molto bene A meno a giudicare Da questi primi mesi Volevo ricordare Il segretario Che è Gino Di Lorito Che alla sua Giovane età Di 81 Fa ancora Il segretario E è conosciutissimo In tutto L'Abruzzo E poi le due signore Che a noi Ci danno tanta La Virginia E la signora Cinzia Sono persone che lavorano Dietro le quinte Ma che sono altresì Importanti Come quelli che Magari risaltano Di più È chiaro Sono queste tre persone Che meritano Anche di essere citati Perché vale la pena Chiudiamo qui Il reportage Dal campo Sportivo San Marco Grazie davvero Allo staff Del Delfino Flaccoporto Salutiamo Patron Paluzzi Ma ci sarà l'occasione Per intervistarlo Grazie di nuovo A Cristian Barisani Che ci ha dato Questa opportunità Ci ha permesso Insomma Con la sua Professionalità Di venire qui E di farci intervistare Il merito di tutto È come loro hanno detto È del Patron Paluzzi Che investe E ci permette A tutti quanti Di stare Qui in mezzo E di dare a tutti Il nostro meglio Perché il Patron Paluzzi Riesce sempre A tirare fuori Il meglio delle persone Questo è un suo grande merito E noi tutti Facciamo di tutti Per ripagare Queste sue grandi doti Grazie ancora E viva il Delfino Flaccoporto Grazie a tutti Perché quando Quando Arrivi il cielo Si apre in un secondo Con il tuo sorriso Io mi prendo Mi splendo Nel tuo sguardo Ringrazio il cielo Per averti accanto Ti prendi In ogni cosa E non mi togli Niente Vorrei sapersi Quanto sei importante Ti voglio adesso E sempre È questa la promessa Che io faccio a te